Una vera e propria stamperia clandestina, una zecca non autorizzata con all'interno 3 milioni di euro pronti per lo spaccio. A scoprirla sono stati i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria di Roma e del comando provinciale di Napoli, che da tempo erano sulle tracce dei falsari. La zecca era ubicata a torre annunziata nel retro bottega di un alimentari, un laboratorio clandestino attrezzato con sofisticati macchinari offset professionali in grado di falsificare migliaia di esemplari di euro al giorno. I responsabili, due incensurati campani, sono stati arrestati mentre erano intenti a stampare le banconote. 1,8 milioni di euro in pezzi da 10 e 36 mila euro in pezzi da 50 erano già pronti su 18 mila fogli di carta filigranata ancora da tagliare. Il materiale già in macchina avrebbe consentito lo spaccio di almeno altri 3 milioni di euro. Ma quella scoperta dalle fiamme gialle era una vera e propria centrale del falso, come ha affermato il tenente colonnello Claudio Gnoli ai nostri microfoni. Il materiale sequestrato è di buona qualità. L'attività investigativa derna nasce dal coordinamento del nucleo di polizia tributaria di Napoli e il nucleo speciale di polizia valutaria di Roma e ha consentito di individuare e sgominare a Torre Annunziato una vera e propria centrale del falso. Stamperie di soldi falsi, banconote da 10 e da 50 euro, ma anche tesserini, placche di appartenenza alle forze di polizia, abbonamenti del calcio Napoli. Pino quando riceve una banconota e sospetta della falsità della banconota ricevuta, deve verificare tutti gli elementi di sicurezza che sono riprodotti su una singola banconota e variano a seconda della banconota ricevuta. Questi li può individuare consultando il sito della Banca d'Italia. Una volta che sospetta della falsità della banconota, si può recare presso uno sportello della Banca d'Italia, di un istituto di credito, di un ufficio postale e sottoporre all'addetto, allo sportello, la banconota, che se sospetta di falsità viene ritirata. I soggetti arrestati avevano anche sulla persona dei tesserini contraffatti di appartenenza alle forze di polizia, carabinieri, guardie di finanza e polizie di Stato. Noi confidiamo che chiunque riconosca i soggetti riportati su questi tesserini, che magari sono stati oggetto di truffe, possano collaborare con noi e denunciare le condotte subite.